Giovedì 17 agosto, ma è il caso di dire anche venerdì 18 agosto perché sarà un appuntamento che dalle 21.30 arriverà fino alle 5 di mattina. Un felice esperimento che si replica, quello dei notturni oliveriani in cui biblioteche e museo ci mettono davvero di tutto, dalle visite guidate ai luoghi proprio specifici di Palazzo Almerici, ma anche teatro, musica, escape room, un po' di tutto. Sì, in effetti ritentiamo questo esperimento riuscitissimo a dicembre che avevamo organizzato appunto per l'inaugurazione del Museo Archeologico, lo ritentiamo questo 17 agosto con questo numero che insomma sta diventando forse per noi un po' simbolico anche della nostra attività, lo ritentiamo e quindi sì, di nuovo aperti per tutta la notte e dalle 21.30 e con iniziative veramente anche diciamo molto diversificate, ci sarà musica per ballare, ci sarà musica da ascoltare, ci saranno ovviamente le visite guidate per cittadini e anche turisti perché saranno anche in inglese e ci saranno performance teatrali e insomma iniziative veramente molto diverse che appunto inizieranno dalle 21.30 e si svolgeranno fino alle 5 del mattino anche un escape room che sarà comunque che si svolgerà nelle nostre sale di lettura e il tutto accompagnato da un calice di vino perché chiaramente un buon bicchiere di vino aiuta sempre. Come Piazzaro Segreta avremo filmati e fotografie dell'archivio di Gabriele Stropanobili anni 50, anni 60 supportati da musica anni 60, musica italiana che metteremo su noi da mezzanotte in poi. Ma prima invece entra in gioco Ugo Betti, Ugo Betti perché mi hanno chiesto la direttrice di trovare un gruppo che potesse sì suonare, fare musica italiana ma io ho visto questo gruppo che doveva non cantare, suonare su un palco ma interagire con il pubblico stesso e quindi ci saranno con noi gli stralunati, sono un trio, due ragazzi e una ragazza la ragazza canterà addirittura con il figlio perché ha partorito da poco e quindi interagirà con il pubblico che andrà a visitare la biblioteca o il museo, bevendo anche un calice di vino e suonando musica italiana. Quindi sarà proprio una open biblioteca, open museo, bellissimo secondo me. Tra arte e cultura che si mescola in questi notturni liveriani non può mancare il teatro. Sì, effettivamente il teatro è il teatro contaminato perché è un'analogia proprio continua con una canzone di Lucio Dalla che è cara e sono i giovani che fanno dei dialoghi che si mischiano in qualche maniera con le parole della canzone di Dalla. Chiaramente siamo un istituto storico che conserva un patrimonio importante, la storia della città di peso del territorio e non solo, oltre 2000 anni di storia sono conservate nelle nostre stanze e chiaramente hanno un pubblico di specialisti, di studiosi e di persone che sono interessate chiaramente ad approfondire ciascuno alla propria disciplina. Però questo non è soltanto questa la nostra finalità ma è quella secondo me soprattutto di arrivare a tutti i cittadini e di far conoscere ai più cittadini possibili tutto quello che noi abbiamo e che in fondo rappresenta l'identità un po' di tutti quanti noi che viviamo questi territori o anche di chi viene qua in visita e di farlo in maniera gioiosa, divertente ma sempre molto rigorosa. Cioè questo ci teniamo perché quello che noi diciamo e raccontiamo è sempre collegato appunto agli avvenimenti storici a quello che le fonti documentarie raccontano. Però ecco farlo in maniera divertente e non in maniera così soltanto accademica.